Signori buonasera a tutti, mi fa piacere vederli in particolare così numerosi nonostante la calura estiva che ormai ci avvolge ormai siamo quasi all'ora del tramonto, è l'ora che avvolge al disio, viene buono insomma, viene buono in effetti siamo alla lezione che precede Shavuot e volevo dire proprio due parole anticipando quella che sarà poi una lezione che sia di ruolo e farò giovedì prossimo, giovedì prossimo abbiamo il ritmo festivo quindi non ci troviamo in questa sala ci sarà il tempio dell'ultimo giorno di Shavuot alle 6, dopodiché leggeremo la Meghillah di Ruth e al termine della Meghillah di Ruth farò una piccola lezione e commento su questo argomento Shavuot è la festa delle primizie, oltre che la festa del dono della Torah e nella Parashah di Emor, nel capitolo 23 di Vaikra, dove si trattano di tutte le feste una dopo l'altra a partire da Pesach, secondo la calendarizzazione della Torah dopo che la Torah ha parlato di Shavuot, ribadisce una mitzvah per così direi sociale di cui aveva già parlato nella Parashah precedente ed è la mitzvah di lasciare l'angolo del campo a disposizione dei poveri Tutti i commentatori si scervellano a domandarsi perché viene ripetuto questo precetto e perché viene ripetuto proprio lì Qual è il significato di lasciare l'angolo del campo? Interpretandolo alla luce dell'insegnamento di Rav Soloveitchik Vi ricordate la questione dei due Adamo? Cosa vengono ad insegnarci questi comandamenti fra virgolette sociali? Non semplicemente un ordine sociale ma anche un ordine pedagogico per noi stessi In che senso? Rav Soloveitchik ci insegna che esistono in noi due Adamo quello che spinge per andare avanti, per il successo, e quello che recede Tutte queste mitzvot agricole vengono ad incontrare il secondo Adamo del contadino Il contadino non appena ha un largo raccolto, che cosa fa? Punta a goderne, arriva la Torah e comincia a dirgli no, car L'angolo del campo lo devi lasciare a chi ne ha bisogno Questo prima della mietitura Durante la mietitura le spighe che ti cadono Lasciale al povero che venga a raccogliere E se poi dopo la mietitura hai pure fatto i covoni E ti sei dimenticato di un covone nel campo Non ti chiedo di rinunciare a quelli di cui tu ti sei ricordato Ma quello di cui ti sei dimenticato Non devi tornare a prenderlo Devi lasciarlo a sua volta per il povero E così tutta una serie di prescrizioni Che nel linguaggio di Rav Soloveitchik Possono essere interpretate come Vai avanti ma nello stesso tempo devi anche imparare A fermarti e a rinunciare a qualche cosa Perché questa è la vita dell'uomo Piccolo parentesi iniziale a proposito di Shavuot Che è appunto la festa delle primizie La festa dei raccolti E auguro naturalmente a tutti Un buon Shavuot Un buon Chak Samer Come si dice da noi Che sia soprattutto alla luce degli eventi Che purtroppo ci hanno attristato A livello internazionale in questi giorni Che insomma possiamo ritrovare tutti Una certa serenità Bene Bene o non bene non lo so Io direi che comunque andiamo avanti Dove siamo arrivati? Credo che oggi ci discuteremo di una nota Qualche volta anche le note hanno importanza Soprattutto se sono scritte dall'autore stesso E soprattutto se sono diciamo di questa ampiezza Non soltanto diciamo tipografica Ma anche contenutistica Siamo arrivati alla nota di pagina 60 Il testo francese a pagina 78 Riprendiamo l'argomento dove l'avevamo lasciato la scorsa volta Vi ricordate che la scorsa volta avevamo parlato di una Alakhah della tefillah Per cui dobbiamo fare Semichat Gerullah la tefillah Su questo ci siamo dilungati parecchio La tefillah nostra è strutturata in un modo molto particolare Tutti sappiamo che la parte centrale Quella in cui preghiamo effettivamente Dio e gli rivolgiamo le nostre richieste E lo shemone esre e la amida Nelle tefillah di Arvit e di Shachrit Come abbiamo detto la scorsa volta Lo shemone esre è preceduto Dalla Kriat Shema Dalla lettura dello Shema E la lettura dello Shema E' un testo che Rav Soloveitchik chiama normativo Cosa significa normativo? Significa che ci impone dei doveri E Rav Soloveitchik utilizza questo argomento Per spiegare il famoso terzo punto di contatto Fra la profezia e la preghiera Vi ricordate come la profezia è normativa Nel senso che determina dei comandamenti etici Lo stesso vale per la tefillah L'ultima parte dello Shema L'ultimo versetto Tra i vari comandamenti che troviamo nello Shema Vi ricordate? L'unità di Dio Amare Dio con tutto il nostro cuore Studiare la Torah Mettere i tefillin Mettere la mezuzah alla porta di casa Nell'ultima parte Nella terza parte c'è la mitzvah dello Tzitzini E l'ultimo versetto E' citato nella Haggadah di Pesach Perché contiene l'obbligo Di ricordarsi dell'uscita dall'Egitto L'uscita dall'Egitto Rappresenta la nostra Geulah per Eccellenza E la Berakha Che segue la Criat Shema E' dedicata al tema della redenzione Termina con le parole Baruch Atta Hashem Ga'al Israel Dopo che si sono ricordate in essa anche le parole Della Shirah Tayan Della Cantica del Mare Eccetera eccetera A Shachrit Con questa Berakha Si entra nello Shemone Esri Abbiamo detto la scorsa volta Che ad Arvit La situazione è un pochino più complicata Perché c'è una Berakha in più Che è Ashkivenu In cui ringraziamo Dio Della possibilità che ci dà Di riposare durante la notte Dopodiché si dice In quel caso Il Kadish Perché c'è stato comunque Questo stacco C'è stata questa separazione In ogni caso La nostra tefillah È strutturata Come dicono i Talmud Come dice il Talmud Nel senso che Prima di pregare Dobbiamo ricordare La redenzione A Shachrit in un modo A Darvit in un modo Un filo diverso Più ampliato Come abbiamo detto Ma in ogni caso Questo discorso c'è Ed è su questo Che Rav Soloveitch Ci intrattiene A proposito appunto Della normatività Della tefillah Perché il ricordo Della redenzione È a sua volta Una norma Che dobbiamo seguire Prima di leggere La nota di Rav Soloveitch Però vi propongo Di studiare Poche righe Di un passo Della Gemarae In Berakhot Di cui ho reperito Una vecchia traduzione italiana Quindi non dobbiamo ricorrere I testi in aramaico Eccetera eccetera A proposito di questo argomento Perché? Perché questo passo E' citato Da Rav Soloveitch Nella sua nota La domanda è Tutti in linea di massima Sono d'accordo Che la tefillah di Shachrit È strutturata Criace Marco Le sue Berakhot E seguita Dallo Shmoné Esre Per quanto riguarda La tefillah di Arvit Quello che vi ho raccontato Fino adesso È la Lachà definitiva Ma il Talmud Ci dà lo stadio anteriore E cioè Ci riporta Una controversia In materia Delle due opinioni Della controversia La Alachà Ne sceglierà una E capirete immediatamente Quale Il testo è Nella colonna di sinistra A pagina 80 Credo che sia Berakhot 4B Il foglio 4 Nel retro A circa metà Della pagina Della colonna Che avete Sotto gli occhi La Gemara La Gemara Riporta Una fonte Citata anteriormente In modo anonimo Per ridiscuterla A questo punto Lì si tratta Del caso Di una persona Che è tornata Dalla campagna Non ha importanza Il maestro Disse L'uomo Che è tornato Dalla campagna Reciti Lo ascolta Cioè Lo Shema E la preghiera Cioè La Amida Che cosa Sostiene in sostanza Questo maestro Che anche Ad Arvit Da dove capite Che stiamo parlando Di Arvit Dal fatto che Si parla di un uomo Che è tornato Dalla campagna Alla fine Del suo lavoro Nei campi Evidentemente E anche in questo caso Come a Shekrit Secondo questo maestro Gli viene richiesto Di dire lo Shema E poi La Amida Comenta la Gemara E dice Il che E' un appoggio Per l'opinione Di Rabbi Ochanan Il quale diceva Chi parteciperà Al mondo venturo Risposta Chi avvicina La preghiera Per la redenzione Cioè La Geulà Alla preghiera Serale E la nota 60 Dice La preghiera Per la liberazione Degli ebrei Dall'Egitto Avvenimento Che costituisce La redenzione D'Israele Che nella liturgia Viene inserita Tra lo ascolta E tra lo Shema E la preghiera Cioè La Amida D'accordo? Da cosa si vede Che Quanto dice il maestro E' in appoggio A Rabbi Ochanan Molto semplicemente Se si dice Prima lo Shema Con le sue Berachot E poi La Amida Si ottempera All'insegnamento Di Rabbi Ochanan Che dice che Bisogna avvicinare La preghiera Per la redenzione Alla preghiera Serale Cioè Far precedere La preghiera Serale Dalla preghiera Per la Redenzione Rabbi Ochanan Rabbi Oshua Ben Levi Invece Pensa che Va fatta Un'analogia Tra il coricarsi E l'alzarsi Di cui si parla Nello Ascolta Nello Shema E' scritto Prima è indicato Il verbo Coricarsi E poi E' indicato Il verbo Alzarsi Comenta il Talmud E dice Come all'atto Dell'alzarsi Lo Shema Si recita Vicino al letto Cioè Appena alzati Così Anche di sera Lo Shema Va posto In esso Col letto E perciò Secondo Rabbi Oshua Ben Levi Lo Shema Va recitato Dopo La preghiera Serale In pratica Secondo Rabbi Ochanan Sia A Shachrit Che A David Si deve dire Shema Amida Shema Amida Rabbi Yoshua Ben Levi Invece Richiede Un'impostazione Della giornata Chiastica Al mattino Si dice Shema E Amida E la sera Si dice Secondo lui Amida E Shema Perché Perché Lo Shema Deve essere Come al mattino Lo Shema Viene recitato Rispetto Alla Amida Nella posizione Più vicina A quando Stavamo a letto Secondo la sua opinione La sera Si deve fare lo stesso Recitare comunque Lo Shema Il più vicino possibile Al momento in cui Ci corichiamo E quindi Dopo la Amida Secondo Rabbi Oshua Ben Levi Si Si Come si dice Si trascura Completamente L'idea di Far precedere La Geula Alla Tefillah Perché per lui La Shema Con le sue Berachot Va recitata Addirittura Dopo la Dopo la Amida Quindi secondo lui L'ordine è Shema Amida Amida Shema Come viene stabilita La Alachah No La Alachah Viene stabilita Secondo Rabbi Yohanan Non ci curiamo Dell'interpretazione Dei versetti Che dà Rabbi Yoshua Ben Levi Un Shok Bekha Kumecha Secondo cui I due Shema Vanno recitati Entrambi Il più possibile Vicino al letto Cioè vicino Al nostro Stare letto Ma anche Ad Arvid Come a Shachrit Lo Shema Precede L'Amida In modo tale Che la Geula Il concetto Di redenzione Preceda Quello di Preghiera Quello di Tefillah E' chiaro E questo Da un punto di vista Dal punto di vista Di Rapsulovecic Come vedremo Ha un significato Molto 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 Impegnativo Molto forte Tenete fra l'altro Conto Aggiungo Un'ulteriore Considerazione Che Arvid E' una Tefillah E' una Situazione Molto particolare Perché è una Situazione Molto particolare L'Arvid Si dice Si dice Con il buio C'è una Grossa Discussione Nel Talmud Se la redenzione Dall'Egitto Sia avvenuta Di sera O sia avvenuta La mattina Dopo Il racconto Della Torah Ci dice Che è avvenuta Teoricamente Di sera In termini Di dichiarazione Tant'è vero Che il sedia Di Pesach Noi lo facciamo Quando? La sera E non di giorno Ma il popolo Ebraico Partì Materialmente La mattina Dopo E quindi C'è una Discussione Fra i maestri Del Talmud Su quale Di questi Due momenti Sia più Rilevante A proposito Della Redenzione Ma io aggiungo A questo Un'ulteriore Considerazione La sera Si bolleggia L'esilio E quindi Se la Alachah E secondo Rabbi Ochanan Per cui Anche lo Shema Della sera Deve precedere La Amida E non seguirlo In maniera tale Da ottemperare L'obbligo Di Mettere La Gerullah Prima Della Tefillah Quanto è forte Questo insegnamento La sera Ancora più Che la mattina Per il fatto Che la sera Si bolleggia L'esilio E in esilio Noi Ricordiamo La Gerullah Con maggiore In un certo senso Con maggiore forza Quindi c'è una Diciamo così Una Idea redentrice Di per sé In tutto questo Che è assolutamente Notevole Quindi è Che bisogna Mettere in rilievo La Gerullah Anche di sera E non soltanto La mattina Anche a Darvit E non soltanto A Shachrit Vediamo a questo punto Il testo di Rav Di Rav Solovejic La nota 21 A pagina 60 Per chi si è collegato Con noi In questo momento Il fatto che L'alaha Richieda La Semichat Geulala Tefillah Ossia Che la recitazione Deo Shema Con le benedizioni Che lo introducono E che lo seguono Debba essere unita Alla recitazione Della Tefillah Le 18 benedizioni È indicativo A tale proposito A quale proposito? A proposito Dell'affermazione Che faceva Nel corpo del testo Per cui la preghiera Non consiste solo Nella consapevolezza Della presenza Di Dio Ma anche In un atto Di affidamento Di se stessi A Dio E di accettazione Della sua autorità Morale Pensate un po' Che significato Ha per noi ebrei Prima di pregare Dio Ricordare i miracoli Che ci ha fatto Per la Yeziat Mitzray Chi si lamenta Del fatto Che noi abbiamo Una preghiera Costituita Non si rende conto Di quale testo Noi recitiamo Mattina E sera È un testo Di una Di un'importanza Straordinaria Torniamo alla nota Non si ha Il diritto Di apparire Dinanzi all'Eterno Senza aver prima Accettato Tutte le responsabilità Derivanti Dall'Alleanza Implicite Nelle tre Sezioni Componenti Lo Shema Si consideri Anche Dove dice Si parla del nostro Entrambe le spiegazioni Rashi Su Berahot 4B Esprimono questa idea Non vi ho citato Rashi Mi è bastato Citarvi La Gemarae In Berahot 4B Quella che abbiamo Appena studiato Per rendervi conto Di che cosa Stiamo Stiamo parlando Si consideri Anche un altro Passo in Berahot Ove è affermato Che la lettura Dello Shema E delle preghiere È un atto unitario Di completa accettazione Del Regno Dei Cieli Va comunque Sottolineato Che la concentrazione Richiesta Dalla Halakha Durante la recitazione Del primo verso Dello Shema Rispetto a quella Che deve invece Accompagnare La Tefilah In particolare Per la recita Della prima Benedizione Della Tefilah Appartengono A due diversi Orizzonti Concettuali Su queste in parte Ci siamo già Soffermati Qui rimanda Ad un'altra Ad un'altra Doppia Allakha Che bisogna conoscere Ed è Che ci sono Due Parti Della Tefilah Che richiedono Una Kavanah Assoluta Il primo Versetto Dello Shema Shema Israele Hashem Elokenu Hashem Echad Che noi recitiamo Con la mano Sugli occhi Per non lasciarci distrarre Da null'altro Giusto? Per qual motivo Lo facciamo? Perché richiede Dicevo Una Kavanah Assoluta Noi dobbiamo Concentrarci Sul valore Significato Di questa Espressione Che è fondante Dell'ebraismo Il secondo testo Che richiede Kavanah Una Kavanah Particolare L'abbiamo già detto L'abbiamo già detto Una delle ultime volte È la prima Berakha Dello Shmoné Esre Vedete che anche Da questo punto di vista C'è un collegamento Fra i due brani Tra l'inizio Dello Shema Da una parte E l'inizio Dello Shmoné Esre Dall'altro Qual è la prima La prima Berakha Dello Shema È quella che ricorda I meriti Dei patriarchi Anche quello È un testo fondativo Anche quello È un testo fondativo Baruchatashem Maghera Abraham Ricordate che vi ho detto Che la Lachah Richiede la Kavanah Se uno non mette Kavanah Dovrebbe ripetere Questo brano Poschini più recenti Dicono che oggi Non siamo Molto difficilmente Recuperiamo la Kavanah La seconda volta Se non l'abbiamo avuta La prima E quindi può essere Del tutto inutile Ripetere All'atto pratico Questa Berakha Ma il concetto Il principio Rimane Che questo testo Richiede una Kavanah Particolare Come il primo Versetto Dello Shema Tuttavia Su questo Dice Rav Solveicic I due testi E le due Kavanot Appartengono A due diversi Orizzonti Concettuali Non è lo stesso Tipo di Kavanah Che è richiesto Per i due brani Nel primo caso Cioè quello Del primo passuk Dello Shema Shema Israe La Shema Edoche L'essere umano Scrive Avverte idealmente Di essere Totalmente Impegnato Con Dio E la sua coscienza È così rivolta A un fine Normativo Il discorso Della normatività Che facevamo prima Che assegna Cioè all'uomo Legittimità E valori ontologici In quanto Creatura etica A cui Dio Ha affidato Una grande missione Consapevole Della propria libertà Sia di far Naufragare Sia di aver successo In questa impresa Insomma Quando noi recitiamo Il primo passuk Dello Shema Ci rendiamo conto In quel momento Siamo compresi Non soltanto Dell'esistenza Di Dio Ma di tutto Quello che implica Per noi In termini Di doveri Morali Che poi Noi siamo liberi Di accettare Non accettare Entro certi limiti Però In quel momento Emerge tutta La figura morale Dell'uomo Nel secondo caso Invece Quello della prima Berkha Della Amidah La consapevolezza Che si accompagna Alla preghiera È radicata Nell'esperienza Da parte Dell'essere umano Della propria Creaturalità Per impiegare Un termine Cognato Da Rudolf Otto E dell'assurdità Di cui è intrisa La propria Esistenza Mi verrebbe da dire Poi magari Rav Soloveci Qui bacchetterebbe Ma io lo dico Lo stesso Che la prima Kavanah È una Kavanah Da primo Adamo La Kavanah Di un uomo Che sa di avere Un compito Che gli è stato Affidato La seconda Kavanah Quella della Amidah È la Kavanah Dell'uomo Che è consapevole Scrive qui Dell'assurdità Di cui è intrisa La propria esistenza Cioè Del Secondo Adamo Che ha bisogno Di un Dio Che lo sostiene Shemai Israel È Dio Che ci comanda La prima Berakah Della Amidah In cui ricordiamo L'azione di Dio A sostegno Dei patriarchi È il Dio Che ci aiuta Questo è il senso Abbiamo bisogno Di attenzione Nella vita quotidiana Di tutte e due Le Kavanah E ritorniamo Sempre Sullo stesso Discorso Continua il testo In contrasto Con la consapevolezza Inerente allo Shemai La coscienza di sé Convelata Alla Tefillah Nega legittimità E valore All'esistenza umana Insomma Nello Shemai Shemai Israel Ascolta Israele Noi siamo I protagonisti attivi Va bene Nella seconda Nella Berakah Nella prima Berakah Della Amidah In cui ricordiamo I benefici Che Kadosh Baruch Hu Ha fatto I patriarchi Significa che I patriarchi Sono essenzialmente Ricettivi Di questi benefici E quindi In una posizione Di inferiorità Per così dire Rispetto Al Kadosh Baruch Hu L'essere umano In questo caso Servo di Dio È completamente Da lui dipendente E non gode Di alcuna libertà Come è scritto Nel Salmo 123 Ecco Come gli occhi Dei servitori Sono rivolti Verso la mano Dei loro padroni Come gli occhi Di una serva Alla mano Della sua padrona Così i nostri occhi Sono rivolti All'Eterno nostro Signore Finché egli Non sarà benevolente Nei nostri confronti E chiaro fin qui? Abbiamo quindi Absolutamente Ci ha spiegato In questa nota In maniera Estremamente brillante Il valore etico Della preghiera Lo Shema In quanto ci Ricorda I nostri Doveri Verso Dio E la Tefillah In quanto noi Ci mettiamo La Amidah In quanto noi Ci mettiamo In una posizione Subalterna Nel rivolgere a Dio Quelle che sono Le nostre Richieste Attenzione Abbiamo studiato Nel Talmud E questa è la La Chà Sia per Shachrit Che per Alvit Non possiamo Aver detto Dire lo Shemonee Se prima Non diciamo Lo Shemonee La preghiera di richiesta Non è una preghiera Così Qualsiasi È una preghiera Che è radicata Nella consapevolezza Del nostro rapporto Etico-normativo Con il Dio A quale ci rivolgiamo E questa è una preghiera E questa è una caratteristica Ma in quei passi Ma in cui aggiunge La parola Che significa Completa Integrale Allude Sia allo Shemma Che alla Amida Cioè Consapevolezza Dei nostri doveri Da un lato E consapevolezza Della nostra piccolezza Dall'altro Consapevolezza Che pur essendo Antitetiche Divengono A un'unica Integrata Coscienza Dell'essere umano Tanto prigioniero Di Dio Che suo Libero Messo Tuttavia Se la consapevolezza Necessaria Per la preghiera Sia per sé Strutturata In una prospettiva Alachica In quanto Kabbalah Ma fuciamai Ossia in quanto Atto di accettazione Del regno del cielo È discusso In un altro passo E di questo Non ci occupiamo Quello che conta qui È l'idea di Che entrambe Queste consapevolezze Sono necessarie Per addivenire A una relazione Con Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu Si reaziona a noi Innanzitutto Per quelli che sono I nostri doveri E a quel punto Lì noi possiamo Effettivamente Rivolgere a lui Le nostre richieste Consapevoli Parallelamente Della nostra Subalternità Rispetto Rispetto a lui Andiamo avanti Con il testo Pagina 61 Dopodiché Ci soffermeremo Anche sulla nota 22 Chi è qualificato Per impegnare Dio Nel colloquio Della preghiera Chiaramente La persona Pronta A purificare Se stessa Dall'imperfezione E dal male Ecco Il valore etico Della preghiera Qualsiasi genere Di sforzo E saperci E saperci elevare Non dico al suo livello Ma verso il suo livello Eliminando Cioè Tutte le nostre Magagne Chiamiamole così In termini Un po' In un termine Un po' Brutale Cioè Le ingiustizie La corruzione La crudeltà Tutto questo Profana L'essenza stessa Dice Se l'essere umano Brama L'incontro Con Dio Nella preghiera Allora Egli deve Purgarsi Da tutto ciò Che lo separa Da Dio La halakha Non ha mai considerato La preghiera Come un gesto Magico E separato Pensate un po' A cui l'essere umano Può dedicarsi Senza tuttavia Integrarlo Nel suo complessivo Stile di vita No La preghiera È parte Integrante Di noi stessi Dio Porge orecchio La preghiera Se essa Si innalza Da un cuore Contrito Al di sopra Di una vita Difettosa E disordinata E se si riparte Da un intelletto Rissoluto A redimere Questa vita Insomma La preghiera Ha senso Solo se È preceduta Da una vita Morale intensa In breve Solo la persona Gravata Da responsabilità È legittimata A pregare E a incontrare Dio La preghiera È sempre Annunziatrice Di una Riforma Morale Molto forti Molto forti Queste parole Anche molto Elevate Forse questa È una delle ragioni Per cui Molti fanno fatica A entrare In questo mondo Anche dall'interno Intendo dire L'altra settimana L'altra settimana A Milano Ho partecipato A una serata Sul tema Delle filosofie orientali E l'ebraismo Ci siamo interrogati Sul perché Molti ebrei Vanno in Thailandia Perché molti ebrei Vanno in Thailandia Probabilmente perché Questa è una delle risposte Che sono state date Senza per nulla Contro la Thailandia Naturalmente In quanto tale Molto probabilmente Perché La nostra tradizione Che attende Da molti Dei nostri fratelli Di essere riscoperta Forse presenta Un discorso Forse Troppo Troppo elevato Troppo difficile Non lo so Indubbiamente però Mi sembra Che quello Che abbiamo letto Sia Un valore Extraordinario Al quale è difficile Al quale è difficile Rinunciare A prezzo Della sua difficoltà Ma prima di andare avanti Con la lettura del testo Voglio studiare con voi Quest'altra nota Molto lunga Che è la nota La nota 22 Tuttavia Prima di Studiare questa nota Come? È molto lunga Sì Non è di Fortunatamente spiegata Non è difficile E cercherò Naturalmente Cercherò naturalmente Di farlo Prima di farlo Però Voglio introdurvi A quella che è La fonte fondamentale Di tutto il testo Che segue Ed è un versetto Del primo capitolo Di Isai Lo trovate girando Le fonti Che vi ho Vi ho fotografiato E poi torneremo Alla prima pagina Non ce l'hai? Ah No, no Ascolta No, no, no Non c'è un problema Il primo capitolo Di Isai È la Aftara Di Shabbat Chazom Lo Shabbat Che precede Il digiuno Del nove di A È una Delle più serie Requisitorie Del profeta Isai Contro la città Di Gerusalemme Yerushalayim E il comportamento Diciamo Non proprio Etico Dei suoi abitanti E in particolare Dei suoi Dei suoi Dirigenti All'epoca Della distruzione Del Primo Beto Mi Das Quello che ci interessa È il verso 15 Che trovate proprio All'inizio della pagina E quando Tendete A me Le vostre mani Io Nascondo A voi La mia faccia Anche se Mi rivolgete Molte preghiere Io non ascolto Le vostre mani Sono piene Di sangue A chi si rivolge 20 secondi di Brainstorming Poi riprendiamo No Nel senso che le preghiere Le preghiere che non sono Sincere Cioè non vengono da un'azione Da un comportamento di vita Adeguato Che appunto Poi deve trovare riscontro Nella preghiera Diventano solo parole al vento Quindi non hanno un senso Di solito questo versetto Viene spiegato Come una delle Riprove Della Cosiddetto Monoteismo etico Dei profeti No? Dice Non mi bastano I rituali Qualcuno arriva a dire Che il profeta Mette da parte I rituali del tutto Cosa che palesemente Non è vera I rituali Hanno un senso E si parla anche Probabilmente Di rituali Del Betamikdash Che purtroppo Stava per essere distrutto Va bene Però Dice Fin che le vostre mani Sono piene di sangue E qui la nota 1 Dice Espressione simbolica Per indicare Che sono state commesse Gravi colpe Non sappiamo esattamente Quali Va bene Fin che le vostre mani Grondano di sangue Io Mi dispiace Non accetto Le vostre preghiere Cosa centrano le mani Con le preghiere? Beh In tutte le culture Le mani hanno Una parte fondamentale Nella preghiera C'è un famoso Rabbenu Bachie Che dice Che se Congiungere le mani Rappresenta Una forma di Rassegnazione E di Quella famosa Inferiorità Rispetto a Dio Di cui parlava prima Rav Soloveicic Noi ebrei Abbiamo l'abitudine Di unire anche i piedi Nella preghiera E di immobilizzare La persona La persona Completamente In ogni caso La postura Delle estremità Chiamiamo così Ha un significato Particolare Molto particolare Nella preghiera In qualsiasi cultura E anche Tutto sommato Nella Tefilla ebraica La postura corretta È tenere le mani Tenere le mani In questa posizione Durante la Tefillah E i piedi E i piedi Uniti Il messaggio Che Sharyahu ci dà È Signori miei Potete fare Tutti i riti Le liturgie Le tefillot Che volete Però le vostre mani Non basta che siano Nella postura corretta Durante la Tefillah Bisogna Anzitutto Che non abbiano commesso Niente Di male Cioè Che siano I rapporti con il possimo In sostanza Siano Come si dice Siano cristallini Non meno Dei vostri rapporti Con Kadosh Baruch È chiaro? Questo è il senso E questo senso È effettivamente Sviluppato Nel Midrash Esiste un Midrash In Shemot Rabbalo Vedremo poi Leggendo il testo Di Ravsolo Veicic Che sviluppa Ampiamente Questo Contesto E Interpreta La parola Sangue In senso lato Come fa La nota qui sotto Che avete letto Nella traduzione Come allusione A gravi colpe Non meglio Delineate Tuttavia Girate La pagina Torniamo Al Talmud Torniamo Al Talmud Questa volta Nella colonna Di destra Siamo sempre Nel trattato Berakhot Del Talmud Che parla De De Filot Ma Molto più avanti Siamo arrivati Già al foglio 32B Abbiamo A metà Del trattato Circa Mentre La fonte precedente Era all'inizio Questo versetto È citato Nella Gemara A proposito Di una Halakha Qual è la Halakha? Andate verso Il fondo Della colonna Disse Rabbi Yochanan Un sacerdote Cioè Un coren Che avesse commesso Un omicidio Non deve Alzare le palme Cioè Non deve dare La Birkat Koranim In sostanza Voi sapete La Birkat Koranim Ma sappiamo essere Uno Quindici Pazienza Glielo perdoniamo D'accordo? Yedekhem Damim Maleu Viene qui Interpretato Nel Talmud In un modo Molto più Molto diverso E molto più Ristretto Dell'interpretazione Che abbiamo visto Prima Anche a nome Del Midrash E cioè Tutto assume Qui Un senso Più Tecnico Le mani Non sono più Le mani Della preghiera In senso lato Ma sono le mani Che il Koen Dispone In un certo modo Per dare La Birkat Al popolo Non si parla Quindi più Della Tefillah Ma si parla Di un aspetto Molto tecnico Della Tefillah Quale? La Birkat Koranim Va bene? E il sangue Infine Non è un'allusione Generica A gravi colpe Ma è Il sangue Dell'omicidio Il sangue Effettivamente Versato Da qui Si imparano Alla Chak Riportata Nello Shulchan Aruch Che dice Che un Koen Che abbia Commesso Un omicidio È Inabilitato A vita A dare La Birkat Koranim Volete Che rincare La dose Ve la rincaro Anche Se l'omicidio È stato Commesso Involontariamente Terzo punto È una È una controversia Questa Su questo Gli Ashkenazim Sono più facilitanti E dicono Il Rema Dice Se ha fatto Teshuvah Dall'omicidio Commesso Chiudiamo Un occhio E lo riammettiamo A dare La Birkat Perché vi racconto Tutto questo Per farvi capire La differenza Fra Alakha E Midrash La Alakha Ha una base Molto più tecnica La Alakha Ha una base Molto più tecnica Il Midrash E quindi Anche molto più Circoscritta La Alakha Punta Ad individuare Un caso specifico Che si avvicini Più possibile Al testo Che abbiamo studiato Va bene Il versetto D'altro lato Il Midrash Ha un'interpretazione Molto più Vasta E più Etica Perché Quando la Alakha Dice Anche se ha fatto Teshuvah Dall'omicidio Significa che L'istanza etica In questo caso Passa in secondo piano Quello che conta Di più qui è Il fatto Che abbia commesso Quell'altro Non importa come E non importa Se abbia in qualsiasi Modo cercato Di riparare Successivamente E la differenza Che abbiamo Tra Alakha Da un lato E Midrash O Agadda Dall'altro E' interessante Che entrambe Le interpretazioni Coesistono Nella letteratura Rabbinica Non a caso Quella Alakha Nel Talmud E quella Agadda Nel Midrash E' chiaro Tutte e due Coesistono E' chiaro Che la Alakha Demarca Un confine Molto netto Mentre Il Midrash Punta invece A interpretare Il versetto In modo più Più Vasto Da un lato Ma anche più Pareretico Cioè Tende più che altro A dare Consigli importanti Che però Non sono legalmente Vincolanti A differenza Della Alakha Con l'Aakha Abbiamo il vincolo Legale E con L'Agadda Invece abbiamo La Barenesi Siete pronti A questo punto A leggere La nota Di Ravsolo Reci E non è un testo Così facile Effettivamente Ma se di ora Ci cimentiamo E ci cimentiamo L'interrelazione Tra preghiera Vita morale E pentimento Dice Ravsolo Reci Con l'inizio La nota 22 A pagina 61 Venne già Sottolineata Nella preghiera Di Salomone Questo è un testo Che non vi ho riportato Una preghiera bellissima Che il re Shalomò Rivolse a Dio Il giorno Dell'inaugurazione Del Delle 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 Commetteranno Delle Colpe E faranno Teshuvah Potranno Venire A pregare Attraverso Questo Tempio Ma Soprattutto Si consideri Esodo Rabbah E' Un midrassu Libro di Shemot Come loro purificarono i loro cuori Ed elevarono la cantica Si riferisce alla generazione Che ha vissuto La Geulà Dell'Egitto Si parla della cantica del mare Naturalmente Così un essere umano Deve purificare Il proprio cuore E successivamente Pregare Questo E' quanto Ebbe a dire Giobbe Anche se non vi è violenza Nelle mie mani E la mia preghiera E pura Rabbio Sua Coen Figlio di Rabbine Che mi ha Di sé Vi sarebbe quindi Una preghiera Impura Punto di domanda La risposta è No Tuttavia Colui che si rivolge a Dio In preghiera Con le mani Insozzate Dalla violenza Non è Ascoltato E Rabbi Hamab Ben Haninah Disse Da dove deriviamo Che la preghiera Di chi ha commesso Violenze Sia impura Dal fatto che sia affermato Guardate dove Isaia 1.15 Che quando innalzerete Le vostre mani Io non presterò Ascolto Perché le vostre mani Sono piene di Sangue Qui abbiamo L'interpretazione Etica Del versetto Non quella Alachica E da dove deriviamo Invece Che è pura La preghiera Di chi abbandona La violenza Eccetera Eccetera Anche Maimonide Soffermandosi In relazione Al precetto Della preghiera Durante periodi Di difficoltà In maniera inequivocabile Afferma Che la preghiera È l'unico strumento Attraverso cui L'essere umano Può normalmente Riabilitare Se stesso Anche se In relazione Alla preghiera Quotidiana Egli non fa Espressa menzione Di questo particolare Rapporto E qui Rav Soloveci Che arriva al punto E dice È degno di nota Che vi sia Una duplice discrepanza Fra il Talmud In Berchot 32 E il succitato Midrash Il Talmud Infatti Come abbiamo visto Anche noi prima Restringe L'interpretazione Del verso di Isaia 1.15 Al peccato Di omicidio Nel senso Che rende Inidoneo Il Kohen A impartire La benedizione Di Dio Al popolo Di Israele Il Midrash Invece Ne estende Il significato E la rilevanza A tutti I generi Di violenza Per esempio L'appropriazione Indemita E altre pratiche Corrotte Escrudendo Non solo Il Kohen Dal poter Impartire La benedizione Sacerdotale Ma tutto Il popolo Dalla Preghiera Abbiamo qui Il doppio Il doppio Binario Dell'interpretazione Rabbinica Delle scritture Chiamiamolo così A mio avviso Vi è solo Un'unica discrepanza Laddove L'intendimento Della frase Le tue mani Siano piene Di sangue Risulti limitato All'omicidio Oppure Si è estensibile A tutti gli atti Di disonestà E corruzione Non vi è tuttavia Contradizione Scrivere Absaloveic Tra le due Interpretazioni Per quanto riguarda L'applicazione Del verso Alla tefilà E ne potrebbe esserci Dal momento Che nell'ultima parte Del versetto È Isaia stesso A fare espressa Menzione Della tefilà Cosa dice Questo versetto? Anche se Moltiplicate Le preghiere Dice Dio Io non ascolto Ebbene Il Talmud E il Midrash Affrontano Il verso di Isaia A due differenti livelli Mentre il Talmud Si esprime Al riguardo Ricorrendo A formali Categorie Alachiche Il Midrash Lo pone In una prospettiva Etico-metafisica Il Talmud Tratta La problematicità Dell'invalidità Del Kohen Dal momento Che quest'ultimo Nel caso Abbia ucciso Perde la prerogativa E il divito Dei sacerdoti Di benedire Il popolo ebraico Ricorrendo A termini Alachici Direi che L'omicidio Rientra Nell'insorgenza Di una Inadeguatezza Personale Cioè Qualche cosa Che inabilita La persona In modo totale E definitivo E infatti Secondo Maimonide La non idoneità Consegue non tanto Dalla colpa morale Derivante dal peccato Di omicidio Bensì Dal mero fatto Di essere stato Agente E strumento Di Omicidio La non idoneità E la conseguente Esclusione Dal poter benedire Il popolo Infatti Permane comunque Anche dopo L'eventuale Pentimento Dell'omicidio Questa è la valenza Alachica Del passuc Si fatta esclusione Non sarebbe applicabile La preghiera Ho controllato Il testo francese E qui È stata saltata Un'importante Negazione Altrimenti Non si capisce Quello che viene dopo Ripeto Si fatta esclusione Non sarebbe applicabile Alla preghiera Il privilegio E il diritto Di pregare Non può essere Negato a chi che sia Si può dire A un coel Per favore Si accomodi Al suo posto Perché lei Non è degno Di dare La berakah Al popolo Ovviamente Non con questi termini Si trova il modo Di farglielo capire Però la cosa È ammissibile D'accordo Molto diverso È dire a un ebreo Per molto meno Non puoi pregare Questo non possiamo Evidentemente Farlo Questa è la differenza Fra l'achà E agadà Il privilegio E il diritto Di pregare Non può essere Negato a chi che sia Nemmeno Alla persona Più empia Il salmista Afferma infatti Che chiunque È ammesso Nel mondo Della preghiera Il salmo 65 Dice Il versetto Con cui Nel vito italiano Si aprono Le selichot O tu che porgi Orecchio la preghiera A te verrà Ogni vivente Il Midrash Infatti Non ha mai sostenuto Che il peccatore Sia stato deprivato Del privilegio Di poter pregare Si è piuttosto Voluto rimarcare Che la preghiera Richiede un cuore puro E che la preghiera Di un essere umano Che continua a pecare È imperfetta Noi questo Lo dobbiamo ribadire Ma non fino al punto Di prendere La decisione tagliente Di dire a questa persona Tu non puoi pregare A differenza Del Goene Il Midrash Ricorda L'espressione Tefillah Zakkai Tefillah Ahura Tefillah Pura E tefillah Torbida Che denotano Rispettivamente La preghiera pura E quella impura Ahura Significa letteralmente Torbida Cioè qualcosa Che non permette Di vedere Attraverso Ma il Moride Cita questo Midrash Attenzione Dice Non Ma il Moride Nella sua opera Alachica Cita questo Midrash Non nella sezione Sulla preghiera E della sua opera Di codificazione Rituale Perché Non è una vera e propria Tefillah Alachica Per quanto riguarda Il fatto Estende Estende Concretizzarsi Nel caso Sostenere Sostenere che non Possiede un effetto Ho visto altre Dei destino Dei desti Comunque Sul tema di Shavuot Non su Absoveci E riprendiamo Il nostro studio Dezrat Hashem Tra due settimane Buona salute Grazie Grazie Grazie